Buona serata a Tantamno Notizie di Imperia TV da Andrea Pomati. Dopo il pignoramento dei conti di tesoreria del Comune d'Imperia scattato ieri nella filiale onigliese di Banca Carige, torna innescarsi la polemica sulla vicenda della Tradeco. Tra l'altro la Corte di Conti aveva già segnalato al Comune d'Imperia di inserire il pagamento delle aspettanze degli ex lavoratori come debito fuori bilancio, ma questo non era stato fatto. A dichiararlo è stata la consigliere di opposizione di Forza Italia, Piera Poirucci, che ha poi rilasciato ulteriori dichiarazioni ai nostri microfoni, che adesso sentiamo. Consigliere Poirucci, lei è intervenuta già altre volte su questa vicenda degli ex lavoratori tradeco adesso questo pignoramento, un caso quasi nazionale direi, la tesoreria di un Comune pignorata con l'ufficiale giudiziario in banca. A questo proposito lei aveva detto già in precedenza pagate subito. Che cosa è successo? Perché il Comune non ha voluto pagare? Io avevo presentato una mozione quando il Tribunale ha emesso i provvedimenti di assegnazione in favore degli oltre 50 lavoratori, perché mi sembrava il colmo che il Comune, come il peggior debitore incallito, scappasse dai propri creditori. Avevo presentato come consigliere di minoranza una mozione per stimolare l'amministrazione a compiere gli atti necessari per emettere poi i mandati di pagamento, ma la mia mozione è stata bocciata perché l'amministrazione ha voluto chiedere un parere in merito alla Corte dei Conti, cioè se quei provvedimenti fossero da eseguirsi oppure no. Già la cosa era abbastanza insolita, però la Corte dei Conti ha risposto nel giro di un mese e il 21 dicembre scorso ha detto chiaramente al Comune che erano provvedimenti a cui dare ottemperanza e anche velocemente, perché come tutti sappiamo scappare i propri creditori ha dei costi, ha dei costi di spese legali, di spese di ufficiale giudiziario, di tutta una serie di cose. È lievitato infatti questo debito verso i lavoratori perché si sono aggiunti quanti? Oltre 120 mila Euro di spese legali così? Sì, sicuramente il Comune ha buttato via altri 100 mila Euro, se pensiamo che è un Comune che non ha 50 mila Euro per tenere aperta la biblioteca? Noi ci possiamo permettere di buttare 100 mila Euro perché il Sindaco ha dato ordine di non pagare i 56 lavoratori? Sembra una situazione normale? Io direi di no. Dopo che la Corte dei Conti dice di pagare, comunque il Comune non ha pagato e l'Avvocato dei lavoratori, giustamente, lo studio legale Shortino è andato avanti e ha dato esecuzione ai provvedimenti. Quello che è stupefacente è che nessuno abbia comunque un minimo di sensibilità né del rispetto dell'istituzione, perché il Comune non è un qualsiasi debitore, né del rispetto dei diritti dei lavoratori, perché non è che abbiano chiesto delle cose in consulte, hanno chiesto il pagamento della loro ultima busta paga, quella che risultava dall'accessazione del rapporto di lavoro con Tradeco. Il Comune, che è stato riconosciuto terzo debitore di Tradeco, perché c'erano ancora delle somme residue presso il Comune di competenza di Tradeco, il giudice ha stabilito che invece che darle a Tradeco le desse ai lavoratori. Quindi nel momento in cui il Comune paga il capitale, non paga di sua tasca, paga di tasca Tradeco. Certo, cos'è successo? Che ormai è il sugo che si è mangiato l'arrosto, ormai sono diventate maggiori le spese legali del capitale dovuto ai lavoratori, ma questo per un atteggiamento inaccettabile dell'amministrazione. In tutta questa storia, dottor Pomati, secondo me questo punto bisogna rilevarlo, c'è anche una responsabilità amministrativa, perché nel momento in cui un sindaco dà l'ordine di non pagare per vezzo suo, ci sono comunque dei dirigenti che hanno una responsabilità. Io credo che il dirigente del settore ambiente avrebbe dovuto portare una pratica di riconoscimento del debito fuori bilancio al Consiglio Comunale perché fosse inserita bilancio. A quel punto il ragioniere capo avrebbe potuto pagare, è un meccanismo che mi ha spiegato proprio la ragioneria del Comune. Invece tutto questo non è stato fatto. Io penso che le responsabilità quindi siano duplici, politiche ma anche amministrative. E sempre Imperia prosegue anche il dibattito relativo all'apertura del parassalute di Via Cuarone che sarà vincolata alle condizioni meteo. Il segretario cittadino del PD Antonio De Bonis assicura che i lavori mancanti per la messa in sicurezza saranno realizzati nell'arco di pochi mesi. Questione parassalute che deve chiudere, deve ancora aprire, ma dovrà chiudere in caso di allerta rossa per maltempo o arancione per temporali. Antonio De Bonis coordinatore cittadino del PD. Che succede? Non si poteva fare diversamente. Chiaramente se si vuole aprire questa ordinanza dipende da quello, ma perché? Perché l'ASL ha l'esigenza anche legata all'appalto dei lavori e le modalità di finanziamento dell'apertura. Il Comune di Imperia ha cercato di dare una mano all'ASL, ha predisposto i lavori che si è trovata purtroppo e me. Nel 2014 è venuta a conoscenza che c'era un impegno della precedente amministrazione che i lavori di messa in sicurezza se ne faceva a carico il Comune di Imperia. Il Comune di Imperia con questo finanziamento spende 600 milioni. Questi lavori sarebbero dovuti essere a carico dell'ASL e della Regione. Questi lavori costano complessivamente oltre 1.200.000 euro, di cui oltre 600 ce li mette il Comune di Imperia per un impegno preso nella conferenza di servizi dell'assessore precedente. Il Comune scopre questa cosa, questa amministrazione nel 2014, che dopo averlo detto di questo impegno che se ne facevano carico, nessuno aveva provveduto a fare una progettazione. Nel 2014 scopre questa cosa quando l'ASL chiede l'autorizzazione per far defluire l'acqua bianca del palazzo che aveva realizzato, il Palazzo della Salute, che era in via di completamento e nessuno aveva fatto niente. A questo punto il dirigente Croce, questa amministrazione, ma nella persona del dirigente Croce, predispone tre progettazioni per rispondere alle tre prescrizioni che aveva dato la Regione per dare l'autorizzazione. Le tre prescrizioni ha fatto tre progetti distinti, uno è in fase di completamento dei lavori, quello della sistemazione a monte con la griglia, il rafforzamento del costone e l'allargamento di un beo che confluisce nel rio, questo è in fase di completamento. Il secondo lotto è quello del rafforzamento della tombinatura, perché una volta c'erano due metri di terra sopra, adesso c'è una copertura di oltre 5-6 metri, c'è una lesione, dunque il rifacimento di questa copertura e il rafforzamento, devono iniziare i lavori, già stato fatto l'appalto, affidati i lavori. Il terzo lotto, che è quello di una tubazione che ha in fondo la tombinatura e porterà le acque in una zona più a valle, più larga in sicurezza, sono arrivate tutte le autorizzazioni, stanno predisponendo la gara e nel giro, penso, di un mese o un mese e mezzo dovrebbero essere affidati i lavori. Dunque il primo è in fase di completamento, l'altro deve iniziare e l'altro devono indire la gara. I finanziamenti sono stati dei primi due lotti, una parte della regione e una parte del comune, l'ultimo lotto, quello del tubo, una parte a carico dell'Asle e una parte del comune. Dunque il comune si è fatto carico per impegni presi precedentemente di cose che non erano le sue, compreso questa di fare questa ordinanza che qualche disagio naturalmente potrà esserci, io penso che l'Asle nel momento che è aperto avrà un trasferimento graduale delle varie strutture che sono dislocate sul territorio e penso che da lì a arrivare a un completamento delle strutture all'interno i lavori saranno completati. Momenti di preoccupazione a 20 miglia a seguito della segnalazione da parte di alcuni volontari francesi della presenza di un presunto caso di tubercolosi fra i migranti. La direzione dell'Asle imperiese ha emanato una nota nella quale si evidenzia che sono state effettuate tutte le necessarie verifiche e al momento non risultano segnalazioni né pazienti ricoverati o in osservazione con tali diagnosi prezzo delle strutture aziendali della stessa Asle. E sempre sul fronte ai migranti c'è da registrare una nuova tragedia, purtroppo un migrante di circa 30 anni che è stato trovato morto folgorato su un treno proveniente da 20 miglia, la macchina non era scoperta, è stata fatta in Francia la scorsa notte nella stazione di Cannes-la-Bocca. La vittima si trovava in uno scompartimento tecnico di un vagone insieme a altri tre migranti che si sono invece dati alla fuga. Dall'inizio dell'emergenza col blocco della frontiera francese questo è il terzo profugo che muore folgorato su un treno. Sempre più preoccupanti i segnali che arrivano dal mondo delle piccole imprese della Liguria, Confartigianato denuncia il calo di imprese giovanili nell'arco di un anno in tutte le quattro province Liguri. Vediamo. Artigiani under 35 in difficoltà. In un anno si è perso il 5,6% di imprese artigiane giovanili in Liguria. La denuncia arriva da Confartigianato che chiede un maggior sostegno per i giovani. In Liguria si contano 4.914 imprese artigiani giovanili, l'11% dell'artigianato totale della regione. La maggior parte dei giovani artigiani Liguri lavorano nelle costruzioni, seguono i servizi alle persone e alle imprese. Tutti i settori risultano in calo ma il più pesante è proprio nelle costruzioni con un meno 8,1%. A Genova si concentra la stragrande maggioranza di imprese artigiani giovanili nella regione. Al secondo posto troviamo Savona, seguita da Imperia e La Spezia. Imperia con 898 micro e piccole imprese artigiane under 35 registra un trend complessivamente in calo del 4,1% con qualche spiraglio di luce. Nelle costruzioni sono attive 589 realtà, meno 8,8%, seguita dai servizi alle persone 153 in aumento del 15,9% con 21 unità in più. Nel servizio alle imprese 80 realtà, il meno 10,1%, mentre nel manufatturiero, altro settore in crescita nell'ultimo anno, più 13,8%, sono attive 74 imprese. E purtroppo anche in provincia di Imperia accresce in maniera esponenziale il numero di famiglie cadute in povertà. La conferma giunge dall'associazione Custode Sterre impegnata su questo fronte nel dare aiuti alimentari ai nuclei familiari in difficoltà e a sostenere anche chi possiede animali domestici. Ci sentiamo. Parliamo subito della vostra associazione, voi svolgete attività di volontariato, è così? Sì, assolutamente sì, si tratta di un'associazione che non ha scopo di lucro, volutamente non siamo una Ollus. L'attività è cominciata qualche anno fa ad opera della signora Simona Saccone a Savone ad Albenga, si è stesa poi ad Imperia e da qualche mese siamo anche a San Remo e copriamo la zona sino a Ventimiglia, abbiamo alcuni assistiti nelle vallate, nei paesi dell'entroterra. Purtroppo ci siamo resi conto che nel giro di pochi mesi le famiglie da aiutare sono aumentate in maniera direi quasi esponenziale, segno che c'è un forte disagio nella popolazione. Molte persone hanno remore a rivolgersi presso le associazioni, presso le istituzioni anche, quasi per il pudore, per pudore e perché hanno paura di un rifiuto. In questi ultimi mesi offrite assistenza a famiglie italiane in difficoltà? Sì, assolutamente sì, noi ci rivolgiamo alle famiglie italiane che come dico crescono in maniera esponenziale purtroppo. La nostra attività principalmente si rivolge a raccolte alimentari che facciamo presso supermercati della zona che molto gentilmente mettono a disposizione una zona del loro supermercato dove i clienti conferiscono prodotti non deteriorabili acquistati allo scopo. Nei giorni successivi provvediamo a allestire le borse che vengono consegnate, evitando di creare quelle file che succedono in altri posti, che danno un maggior senso di disagio alle persone che noi aiutiamo. Noi facciamo sempre un incontro molto informale, come fra amici, una famiglia alla volta, evitando proprio questi assembramenti che sono molto spiacevoli e sono, come posso dire, umilianti. E poi insomma aiutate anche per quanto riguarda gli animali domestici? Abbiamo un occhio di riguardo anche agli animali domestici perché chi ha un animale sa che fa parte a tutti gli effetti del nucleo familiare. Abbiamo persone che a volte pensano prima al sostentamento del loro animale che a se stessi addirittura e quindi le raccolte si rivolgono, vengono fatte anche in centri proprio specializzati e vengono poi distribuiti a chi ci segnala di averne bisogno. Aiutiamo anche, non è in zona, una signora che abita a Masone, che ha una colonia di cani e una papperella, è l'ultimo arrivo. Per cui mettiamo in macchina il raccolto secondo quello che lei ci chiede e andiamo fino a Masone a fare la consegna tramite altri amici di altre associazioni. Praticamente si è formata una rete con Marea di Genova, Lanta di Albenga, proprio degli aiuti mirati. Ecco, e vogliamo lanciare un appello per chi volesse contribuire in qualche modo? Noi, la nostra associazione ha una pagina su Facebook che si chiama Custode Terre, con due A, oppure le nostre pagine Facebook personali, siamo io, Maria Rita Corradi e Damedeo Manfredini che copre la zona sino a 20 miglia e vallate e quindi troverete sempre l'aggiornamento delle raccolte che vengono fatti nei supermercati in modo che potete venire a trovarci e lasciare il vostro contributo in beni di prima necessità. Ci tengo a precisare che noi non accettiamo, non posso dire, aiuti economici e quindi non siamo in grado di elargirne. È stata presentata un'iniziativa di digitalizzazione degli immobili pubblici denominata Easy Home che verrà messa in pratica grazie a uno stanziamento regionale di 350 mila euro di risorse provenienti da fondi POSFER 2014-2020. È il risultato di un'intesa approvata dalla Giunta regionale su proposta dall'assessore Marco Scagliola per rendere accessibili tutte le informazioni su un'unica piattaforma digitale che servirà soprattutto per avere un'anagrafe completa del patrimonio di arte e quindi degli alloggi di edilizia popolare. Scalta il piano sicurezza a Genova per la visita di Papa Francesco. Il 27 maggio il capoluogo Ligure sarà blindato con controllo in città, in mare e anche in cielo. Vediamo. Genova il 27 maggio in occasione della visita di Papa Francesco sarà blindata. Gli aerei privati senza piano di volo non potranno sorvolare il capoluogo Ligure. Tutte le forze dell'ordine saranno mobilitate con personale di rinforzo in diversi angoli della città, anche con l'impiego di tiratori scelti. Sorveglianza anche in mare con l'impiego di motovedete della Capitanirea di Porto. Mobilitata anche la colonna mobile della protezione civile con personale che giungerà da tutta la Liguria per supportare i volontari genovesi. Nella cattedrale di San Sirio e nella basilica della Madonna della Guardia, invece il servizio d'ordine per tutelare l'incolumità di Papa Bergoglio sarà gestita direttamente e in via esclusiva dai gendarmi della città del Vaticano. Sempre per motivi di sicurezza, tutti i tombini e i chiusini dell'area cattedrale di San Lorenzo e della zona di Piazzale Kennedy saranno saldati e verranno tolti i cassoniti dell'immondizia. Sono queste infatti le zone ritenute maggiormente sensibili. Ok, da parte della Giunta regionale della Liguria su proposta del Vicepresidente Assessore alla Sicurezza Sognaviale al programma formativo del 2017 per la Polizia Urbana in collaborazione con la Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena per lo svolgimento dell'attività formativa e i progetti di sicurezza sono stati stanziati 100.000 euro, novità di quest'anno anche la collaborazione con l'Università di Genova. Il governo ha fatto salire a 12 vaccini obbligatori inserendone alcuni che prima erano solo raccomandati come morbillo e meningite. Il provvedimento ha già ricevuto l'ok formale da parte del Consiglio dei Ministri. Sentiamo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che stabilisce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'accesso alla scuola. Il provvedimento è inserito nelle disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale che sono state presentate dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Secondo quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, l'evasione dell'obbligo dei vaccini comporterà l'impossibilità di iscriversi al sistema 06 che precede la scuola dell'obbligo e per partecipare alla stessa scuola dell'obbligo la mancanza di documentazione produrrà sanzioni che sono dalle 10 alle 30 volte maggiori di quelle esistenti. L'obiettivo del provvedimento è stato quello di uniformare gli indirizzi regionali allargando a 12 le vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione a scuola. In pratica sono stati resi obbligatori alcuni vaccini che prima erano solo raccomandati come morbillo e meningite. Lo scopo finale è quello di evitare che le difficoltà si trasformino in vere emergenze sanitarie. Ora una breve pausa per noi, poi altre notizie servizi fra poco. Riprendiamo da Andorra dove il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di bilancio 2016, il documento economico chiude con un avanzo di 11 milioni di euro senza che vi sia stato un aumento di tasse e imposte. Come ha detto ai nostri microfoni, l'assessore all'amministrazione finanziaria Fabio Nicolini. Questa sera durante il Consiglio Comunale abbiamo approvato il rendiconto della gestione per l'anno 2016 che si è cluso con un avanzo di un avanzo di un avanzo di un'amministrazione di 11 milioni di euro circa. Il bilancio è riuscito, siamo riusciti a ottenere questo risultato senza dover aumentare in alcun mondo le imposte, così anche come per il bilancio di previsione dell'anno corrente e del precedente l'anno 2015, non vi è stato alcun aumento di tariffa su nessuna delle possibili tariffe per cui ha competenza il Consiglio Comunale. Siamo soddisfatti del risultato che stiamo ottenendo ma puntiamo a migliorare per cercare di andare a intervenire ancora in quelle possibili piccole sacche di inefficienza che sono rappresentate da alcune spese correnti che potrebbero essere diminuite in modo tale che anche se lo Stato continua a prelevarci fondi ogni anno sempre di più, non ci veda costretti in alcun modo neanche a pensare di dover aumentare le imposte ai cittadini. E ci spostiamo a Riva Ligure dove da ieri nei giardini di Piazza Ughetto c'è, la vedete in questa fotografia, una panchina in legno gigante, legno tra l'altro recuperato dalla costruzione della passarella sul rio Caravello. Questa mega panchina subito provata come vedete dal sindaco Giorgio Giuffra è alta 3 metri, larga 4, pitturata di rosso quale monito contro la violenza, ogni tipo di violenza nei confronti delle donne e la speranza dell'amministrazione è che diventi un punto di riferimento per i turisti e sicuramente sarà molto fotografata. A Stellanello invece è stato inaugurato un presidio di protezione civile dell'Unione dei Comuni Valmero e Montarosio, l'inaugurazione è venuta alla presenza fra gli altri del sindaco di Andorra Mauro De Michelis, lo vediamo qui col microfono al centro, capofila dell'Unione, del sindaco di Stellanello Claudio Cavallo che abbiamo visto prima e di numerosi volontari dei paesi interessati. Ecco, questo è il sindaco di Stellanello con la fascia, l'intenzione dell'Unione è quella di aprire un altro presidio presto anche a Cesio. Invece su iniziativa del Movimento Politico Imperia di Tutti, Imperia per Tutti e del Partito Socialista, domani nella sala conferenza dell'Otta Rossini e Imperia si terrà un convegno sul testamento biologico. I lavori prenderanno via alle 17, fra gli altri interverranno l'onorevole Pia Locatelli, capogruppo PSI alla Camera e coordinatrice intergruppo testamento biologico e il professor Franco Manti, docente di Etica Sociale dell'Università di Genova. L'incontro è naturalmente gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Adesso andiamo alla Igueglia dove c'è una due giorni in programma, oggi e domani, all'Igueglia con l'edizione 2017 di Sci di Fondo On The Beach, un evento per grandi piccole famiglie con anche la presenza di grandi campioni. Vediamo. Oggi all'Igueglia per Sci di Fondo On The Beach con tantissimi ospiti, con noi anche Elisa Brocard. Allora, chiude qua praticamente, si chiude qua una stagione lunghissima, come è andata? Sì, per me quest'anno è andata molto bene, sono molto soddisfatta, sono riuscita a rientrare nel Giro di Coppa del Mondo e anche a qualificarmi ai mondiali di lati in Finlandia dove ho conquistato un bel soddisfacente per me, quindicesimo posto in una 30 chilometri. Ecco, invece è più complicato, insomma, affrontare di solito una prova sulla neve o questa follia sulla spiaggia. Ma questa è particolare, ma soprattutto divertente, infatti per me è un onore essere qui, in questa splendida cittadina che è l'Igueglia, nella Liguria, che io amo tanto, però sì, diciamo che è più una festa oggi, quindi la prendiamo come viene, anche se lo scino scorre molto bene, come sulla neve, pazienza, l'importante divertirsi. Allora, ci diffondo una bici di L'Igueglia, ovviamente è di casa chi ha Imperia, proprio ho trovato la sua residenza, Alessandra Merlin, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, tu in realtà non sei di Imperia, sei un'imperiesa adottata. Sì, sono adottata ormai da 13 anni, in realtà sono di Torino, però con il gruppo sportivo della forestale ero stata trasferita a Imperia, mi ero trovata bene, quindi sono rimasta a vivere qua. Allora, lo sci di fondo non è esattamente la tua specialità, no? Com'è questa esperienza sulla spiaggia? Ma, devo dire, bella, l'avevo già provata un paio d'anni fa e avevo proprio provato a fare anche il fondo che per me proprio non è la mia specialità perché io ho discesa libera, però interessante. È curioso, no, vedere questi qua che vanno così piano per voi che fate discesa libera? Assolutamente sì, anche perché non si direbbe, ma sulla sabbia assolutamente non si scivola. Sempre dalla Eguelia per lo sci di fondo on the beach, uno dei grandi ospiti di quest'anno, Francesca Bauden, bentornata. Grazie mille, sono molto contenta di essere tornata quest'anno, poi quest'anno a fine maggio, quindi c'è anche... fa anche più caldo, poi è una bellissima giornata. Sempre bello venir qua, musica, tanti amici che ritrovo poi in inverno e quindi sono contenta, non vedo l'ora di iniziare. Ma, com'è stata questa stagione, quindi 2016-2017? È andata bene, nonostante l'infortunio dello scorso inverno, perché mi hanno operato due volte la caviglia e sono riuscita a vincere anche gli italiani e poi da metà stagione un po' in poi un po' la preparazione altalenante si è fatta sentire. Però adesso sono già di nuovo in marcia con gli allenamenti e il prossimo anno c'è l'Olimpiade, quindi non bisogna mancare l'evento. Rapito al mondo del biathlon, rubato al mondo del biathlon, portatoci di fondo on the beach, anche Pietro Dutto, benvenuto. Grazie per l'invito, sono molto contento di essere qua per la seconda volta, è un piacere essere su questa spiaggia e far conoscere i sport invernali alla Liguria e a tutto il mondo del mare. Allora, per te immagino che insomma sciare sulla spiaggia risulti un po' strano, no? Ma certo, è una cosa un po' anomala, però come ho detto in precedenza, una bella manifestazione, una bella giornata di sono, una bella giornata di divertimento per tutti noi. Per voi, tra l'altro, che fate biathlon c'è anche una, diciamo, facilitazione in più in questo caso, no? Non c'è il momento del tiro, quindi insomma dovrebbe essere un po' più facile. Certo, ma poi non c'è la tensione che abbiamo in inverno, che è quella la cosa che ci dà più fastidio, quella cosa che va un po' a limitare il divertimento. Ma com'è venuta l'idea di, insomma, trasportare lo sci di fondo in un posto che proprio non è adatto come la spiaggia? Ha un'idea qua degli amici di La Igueglia e Alassio. Comunque è stata una scelta vincente perché abbiamo, cioè facciamo conoscere gli sport che si fanno in montagna qui al mare ed è una cosa divertente perché vedo che tutti gli anni ci sono sempre più ragazzi giovani che hanno voglia di cimentarsi in queste duelli con sci, ciaspole, slittino, quest'anno abbiamo anche la fatbike, eccetera, campionesse famose e tutto, quindi vuol dire che questa scelta qua è stata eccezionale. Domani nella frazione imperiesi di Oliveto si terrà la festa in onore di Sant'Isidoro, agricoltore, compatrono della borgata. La celebrazione prenderà via le 17.30 con il rosario e le litanie cantate secondo un'antica melodia, seguirà il canto dei Vespri Solenni alle 18, presieduti da Monsignor Giorgio Brancaleoni, canonico per gli intenzieri della Cattedrale di Albenga. A seguire la processione per le vie del paese con la statua, la benedizione dei campi e anche la benedizione del rio Oliveto con la partecipazione della banda musicale Città di Alassio. Il consiglio direttivo della confraternita della Santissima Trinità di Taggia vuole invece consegnare un simbolo di appartenenza e fedeltà ai confratelli che in questi ultimi 50 anni hanno ricoperto la carica di priore. La cerimonia di consegna verrà domani alle 15.30 all'oratorio della Santissima Trinità a Taggia durante la messa celebrata dal Vescovo Antonio Suetta. Alle celebrazioni naturalmente è invitata tutta la popolazione. E adesso Riviera 20, poi le notizie dell'autostrada dei Fiori, quindi il quadro meteo. Grazie a tutti. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona, confine di Stato, in direzione Genova, carreggiata sud tra Sanremo e Armaditaggia, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico dei viadotti San Romolo e Rio Foce dal 22 al 28 maggio. Adesso il quadro meteo. Domani, domenica 21 maggio, un regime secco settentrionare garantisce alla nostra regione una bella giornata di sole con bassi valori di umidità. Dunque cielo sereno, poco nuvoloso e temperature massime in rialzo. Umidità su valori bassi, venti in mattinata fra deboli e moderati dai quadranti settentrionali, attenuazione nel pomeriggio e locale rotazione da sud sud ovest. Mare in calo fino a poco mosso nel pomeriggio. Dopodomani, lunedì 22 maggio, ancora tempo stabile, soleggiato in tutta la Liguria. Umidità in parziale rialzo, nel pomeriggio una possibile innocua attività cumuliforme sui rilievi. Umidità su valori medio-bassi, venti calmi deboli o variabili in regime di brezza. Mare poco mosso. E ci fermiamo qui anche per questa edizione. Un grazie a tutti voi per il vostro corte d'ascolto. Andremo mal di auguri di trascorrere una buona serata oggi e speriamo anche una felice domenica domani. Arrivederci. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS